Max Curzio Max Curzio Max Curzio questa sera è qui con noi per proporci un brano molto bello che hai scritto tu dal titolo Allora innanzitutto saluto a tutto Arzano e a tutte le persone che sono intervenute il brano che farò stasera si chiama Hai provato? Quindi spingo tutti quanti a provare nella vita e a dosare Hai provato una mattina a guardarti nello specchio e ti sei visto troppo miso ridistrutto e di corsa per le scale mentre uscivi hai pensato che era meglio fare un salto in farmacia Hai cercato una ragione pure nel frullato a colazione e tu ci hai messo dentro un po' di tutto una mela, una banana, un concentrato di energia e un caffè che poi ti avrebbe dato il via ma Hai provato? 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 Hai provato a salutare la vicina e come sempre per paura il suo cane ti ha aggredito Hai provato a salire senza spingere nessuno nella folla in una metropolitana Hai provato ad aiutare una vecchietta che attraversa e ti ha urlato quasi che fossi un bandito alle otto che già sono tutti sul piede di guerra Hai provato a dire tu bella giornata ma come fai a guidare una macchina che va 300 all'ora se neanche sei partito ma ci hai provato ci hai provato ci hai provato non ci hai provato mai né a sentire nel cuore che c'era in una brezza di primavera un giorno diverso da quello di ieri però che vita sarebbe senza problemi hai provato a stare zitto tanto vale tanto meglio dire a tutti quanti che il silenzio è d'oro sei provato a parlare con i colleghi del lavoro di qualcosa che non sia solo il lavoro valutare cose meglio e vantaggioso hai provato ma investire su qualcosa che ti piace di poter fare qualcosa di diverso e poi non farlo lo ci hai provato oppure l'hai solo pensato hai provato a non essere geloso mentre lei guarda le foto della sua vita passata di tifare per la squadra del tuo cuore hai provato mentre intorno a te sono dell'altra squadra hai provato ad amare senza giudicare sempre di parlare male di tutta la gente di scagliare la prima pietra come disse Gesù Cristo l'hai scagliato forse sei senza un peccato ma come fai a guidare una macchina che va a 300 all'ora se neanche sei partito ma ci hai provato ci hai provato ci hai provato o non ci hai provato mai e a sentire nel cuore che c'era in una brezza di primavera è un giorno diverso da quello di ieri però che vita sarebbe senza problemi e a sentire nel cuore che c'era in una brezza di primavera un giorno diverso da quello di ieri però che vita sarebbe senza problemi a sentire nel cuore che c'era